Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi spiegherò come scaricare e usare le mod di Fallout 4 su PlayStation 4, visto che alcuni di voi me l'hanno chiesto. Per prima cosa, per utilizzare le mod di Fallout 4 su PlayStation 4 bisogna avere l'applicazione aggiornata. Poi, una volta avviato il gioco, andiamo nel menu mod, che dovrebbe essere apparso dopo l'ultimo aggiornamento. Quindi clicchiamo sul menu mod e come potete vedere ci sta un'avvertenza che dice che di giocare con le mod ha nostro rischio e pericolo. Una volta caricato il menu delle mod ci troveremo di fronte a questa schermata. Come potete vedere ci sono varie categorie, ad esempio più popolare di oggi, miglior valutazione, più preferito, sicuramente l'ho tradotto con Google Translate. Poi recente, animali, armatura, audio, automatron, buildings. Comunque, sono varie mod suddivise per categorie. Adesso vi faccio vedere come, appunto, scaricare le mod e utilizzarle. Ad esempio, la mod che ho usato per il video precedente è questa qua. Simple Green. In alto a sinistra potete vedere il nome. Sulla pagina a destra potete vedere la descrizione e il creatore. E sempre a sinistra vedete le dimensioni download. In questo caso sono 144 KB. Per scaricare la mod dobbiamo fare download. Come potete vedere incomincerà a scaricare la mod. In questo caso l'ho scaricata subito perché appunto pesa pochissimo. Adesso possiamo aggiungerle ai preferiti in modo da trovarla più semplicemente. Mettete che scaricate moltissimi mod. Quelle che vi aggradano di più le aggiungete ai preferiti così le trovate subito. Disattivare la mod, che ovviamente disattiva la mod. Eliminarla, quindi cancellare la mod. Valutarla e segnalarla. Ok, una volta scaricate le mod che più ci aggradano, torniamo indietro. Come potete vedere ci dirà l'ordine di caricamento selezione di mod è cambiato. Il gioco caricherà nuovamente il file di dati. Ok, va benissimo. Adesso il gioco sta scaricando le mod. Cioè, mi correggo, sta caricando le mod nei nostri salvataggi. Ad esempio. E io adesso caricherò un mio vecchio salvataggio. Per farvi vedere cosa succede. Ok, dopo gli interminabili attimi di caricamento di Fallout. Andiamo su carica. Come potete vedere in questo caso io ho già un salvataggio modato. Perché appunto nel precedente video ho usato le mod. Ma basterà semplicemente andare ad esempio in un salvataggio. Ad esempio questo qua che è il mio personaggio secondario. Possiamo avviare il salvataggio. E adesso ce lo faremo in modalità modato. Vedete? I mod sono caricati. Nota, i trofei sono disattivati. Vuoi continuare a caricare questo salvataggio? Sì. In questo caso ci avrà creato un'altra cartella con il salvataggio modato. Come avete visto prima io avevo già quella cartella con il salvataggio modato. Ma molto semplicemente ogni volta che scaricate una mod e le installate. Dovete semplicemente caricare la partita che più vi aggrada. Ovvero il salvataggio da cui volete cominciare con le mod. E verrà creata una copia di quel salvataggio però con le mod. Ragazzi tutto qua. Tutto molto semplice. Non capisco quali problemi possiate avere nel scaricare le mode o a farle funzionare. È davvero una stronzata. Spero che questo brevissimo video informativo vi sia piaciuto. Mi scuso se... Mi impappino parlando e sto parlando di merda. Ma ragazzi sono le 3.52 del mattino. Ho la gola secca. E niente ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.